Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Maria, buongiorno Chelsea, un attimo, un attimo Facciamo entrare Gianni e Tino? No, non ci sono Gianni e Tino, io posso capire l'equivoco C'è un trono, ma non è quella trasmissione lì Si chiama stasera tutto è possibile Io sono contento di averti qua sempre più spesso Ma non stiamo parlando di uomini e donne Bene, allora è già finita, vero? La tortura a cui mi sottoponete ogni volta qua in raio No, assolutamente, se tu vuoi restare per noi è un onore So che è già finito, allora Maurizio? Chi è Maurizio? Maurizio, per favore Chi è Maurizio? Certo Ma non sono Maurizio Resta attento, dai, non dormire perché capisco che è tardi La secondi Vabbè, la facciamo, la secondi Io approfitto di questo momento Approfitto che sono andati via tutti Per creare un po' d'atmosfera, se possibile Ma faccia come crede Maestro, lei mi segue? Perché c'è una canzone per De Martino, no? Grazie Prego, musica Quel gufo con gli occhiali Che sguardo che ha Me lo prendi, Maurizio? Non potto, non potto La lepre in tutta rossa Che corse che fa Me la prendi, Maurizio? Te la prenderei, ma non potto Per te, Martino, è il preferito E non lo lascio qua Lo sai che si fa? Che si fa? Me lo porto di là No, come? Guardate, guardate Ma di là dove, Maria? A Mediaset, cosa hai capito? Maria De Filippi Il nostro Vincenzo De Lucia E il nostro maestro Ciro Cino La c'è una canzone da